Ti metti veramente quadrato, non è l'organizzazione che ti... nel momento in cui lo metti in uno sprint lo fai se vuoi, se no sei un pirla e mi ci metto io il primis, sia chiaro, però sei un pirla, falla, risolvi il sistema, pensa come Toyota, oggi questo podcast è stato fin troppo serio, vogliamo dire delle parolacce a caso che voi mettono tutto? No Ciao Ehi gringo, hai ascoltato già il For Italy? Ora non c'è più niente, ma torneremo?